Oh, oh, bello! Ciao, come stai? Bene, grazie, sono rientrato da pochi giorni, sai, sono stato in vacanza. Meraviglioso, eh? Sì, bene, guarda, sono stato in questo posto veramente bellissimo, queste piagge bianche. Ah, meraviglioso, meraviglioso. Ma azzurro, ah, mi sono fatto una settimana del sole, ah, che terrifico. Pure il sole? Sì, è meraviglioso. Ah, fantastico, fantastico, sì, sì, poi, sai, il centro benessere, i massaggi. Eh, meraviglioso proprio così, eh, meraviglioso. Sì, sì, poi per mantenermi un po' in forma sono fatto un po' di scindato, dico, no, tu sai, si, sì. Meraviglioso, meraviglioso. Ma invece, ma te, ma che hai fatto? Dimmi un po', te che hai fatto durante queste vacanze? Eh, io ho fatto un corso di montone. Ma non parla di meraviglioso invece di sti cazzi.